nome francesco luigi cognome baiano con sonno soprannome ciccio gigi età 55 46 anni un pregio della sua squadra grande carattere che non molla mai e un grande cuore un difetto della sua squadra che a volte si addormenta un difetto bisognerebbe chiudere le partite prima sei soddisfatto di quello che ha fatto la tua squadra fino ad oggi sicuramente sì certamente l'ultima cosa che dirai ai tuoi ragazzi prima di scendere in campo domenica di vincere la partita che dobbiamo vincere se dovessi vincere cosa significa avere tre punti in più in classifica significerebbe tanto perché vuol dire dare continuità a quello che stiamo facendo e se dovessi perdere è che bisogna pensare alla partita che arriverà è un problema come era l'altro da giocatore un ottimo calciatore molto forte giocatore pazzesco il compagno di squadra migliore che hai avuto ma non avuti tanti ma ovviamente non ho avuto l'onore e il piacere di giocare con i più grandi di tutti con diego maradona diciamo negli anni di grosseto che stati gli ultimi anni da professionista sicuramente piniglia il giocatore più forte con cui hai giocato gaber battistuta e diciamo che ciccio forte l'avversario più difficile che ha incontrato da giocatore fabio cannavale magnanelli del sassuolo come era da giocatore molto tecnico e sapeva mettermi anche in condizione di fare molto forte tecnico sveglio goleador è incredibile cosa ti ricordi di quando giocavate insieme che ragazzo eccezionale sorrideva ma era anche uno duro in campo mi ricorda che purtroppo non fu un'annata felice che culminò con la trecessione però per me era il primo anno di serie b e giocare insieme a giocatori come lui bisoli lambertini bellini bianchini balli sicuramente è stata un'esperienza incredibile posizione preferita la mia attaccante centrocampista cosa pensi dell'altro da allenatore che sta facendo un lavoro straordinario da allenatore grande grande organizzazione per quanto era forte da giocatore in fase offensiva da una buona organizzazione anche in fase difensiva e questo è sicuramente un pregio importante qual è il ricordo più bello della tua carriera da giocatore quando abbiamo vinto ci sono stati parecchi fortunatamente ma ovviamente si ricordano quando vinci qualcosa io ho vinto un campionato a foggia di serie b ho vinto il campionato la coppa italia con la fiorentina perciò questi sono i due ricordi più belli sicuramente la vittoria del campionato dalla c alla b col grosseto pallone d'oro chi l'avrebbe meritato e non gli è mai stato dato e maldini chi l'avrebbe meritato maldini la cosa che più ti faceva arrabbiare da giocatore quando perde quando perdo quando perdevo dei miei compagni magari quelli che magari non davano il cento per cento e quindi venivo anche volte a discutere con loro e da allenatore quando perdo uguale un aggettivo per descriverti simpatico dai equilibrato non sempre un aggettivo per descrivere la squadra che alleni consapevole folle se non avresti fatto il calciatore cosa avresti scelto avrei fatto sicuramente parrucchiere geometra sono diplomato geometra quindi penso che potevo proseguire il consiglio più importante per la tua carriera da chi l'hai ricevuto ma ovviamente da 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 zeman perché ero ai primi passi e mi ha inculcato la cultura del lavoro da allegri il complimento più bello che hai ricevuto e da chi sei una brava persona no niente di di avere personalità un incontro che ti ha cambiato la vita quello di zeman allegri da uno a dieci quanto sei paziente dieci otto scaramantico da napoletano se mio staff mi sente diciamo otto goloso molto dieci disordinato poco sei attrice preferita giulia roberts giulia roberts attore preferito stallone il primo che mi viene in mente brad pitt cantante o gruppo preferito marco mengoni ero sar mazzotti sotto la doccia quale canzoni canti spesso accennala oh sole mia sta in fronte a te no non canto il ritiro cosa non puoi dimenticare di portare il telefono il ritiro da giocatore la playstation cosa ti fa più arrabbiare di una persona quando non ci mette passione la falsità il superpotere che vorresti avere quello di far vincere le mie squadre a volte essere invisibile hai una bacchetta magica il primo desiderio che realizzi quello di in questo momento è quello di portare la mia squadra a una salvezza tranquilla calcisticamente vincere quest'anno il campionato un aggettivo per descrivere la città dove alleni tranquillo passionale dolce o salato salato dolce mare o montagna tutta la vita mare mare il tuo motto e il mio motto è le le medaglie si vincono in allenamento e la domenica si vanno a ritirare non mollare mai di qualcosa ai tifosi della tua squadra che daremo sempre il massimo di seguirci di starci accanto come stanno facendo in questo momento e perché sicuramente possono essere il dodicesimo uomo in campo l'intervista è finita salutatevi a modo posto ciao gigi ci vediamo domenica ciao ciccio bocca al lupo